Il fatto non sussiste, con questa motivazione è stato assolto dall'accusa di omicidio come conseguenza di altro reato Pietro Campellone, il dermatologo isernino accusato di aver provocato la morte di Giuseppe Iacovone, il poliziotto che lo stava inseguendo in auto. Un episodio di cronaca risalente al marzo del 2012, quando Pietro Campellone, al volante di un Audi Q7, stava transitando sulla Isena Venafro. Secondo l'accusa, Campellone stava effettuando tutta una serie di sorpassi pericolosi. I poliziotti a bordo di una volante, dopo averlo visto passare ad alta velocità, si mettevano al suo inseguimento a sirene spiegate, ma l'Audi non si fermava, proseguendo nella sua corsa, mentre la volante, guidata da Giuseppe Iacovone, si schiandava contro un tir che veniva in senso inverso diretto a Isernia, provocando la morte del conducente. La domanda a cui accusa e difesa hanno dato risposte completamente diverse era questa. Campellone era cosciente di essere inseguito o ne era inconsapevole? Se fosse stato cosciente, come hanno sostenuto Paolo Albano e Arturo Messere, avrebbe dovuto fermarsi, scappando via, aveva invece provocato indirettamente la morte di Iacovone. Del tutto opposta alla tesi difensiva, Campellone non si era accorto di essere inseguito e quindi era del tutto inconsapevole e di conseguenza non poteva essere ritenuto responsabile dell'incidente mortale in cui aveva perso la vita il suo inseguitore. Entrambe le parti hanno presentato le loro perizie che davano responsi del tutto opposti. Alla fine del ritorno al beviato, il gruppo di Isernia Elena Quaranta ha optato per l'assoluzione di Pietro Campellone perché il fatto non sussiste. Il giudice ha assolto perché il fatto non sussiste, quindi significa che proprio i presupposti del reato come noi abbiamo sempre sostenuto sin da quando abbiamo chiesto l'incidente probatorio per lo svolgimento della perizia, non ci sono mai stati, per cui siamo molto soddisfatti. Cambiando fronte le reazioni sono state abbastanza pesanti. Un procuratore albano scuro e involto non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma ha preannunciato appello immediato. Arturo Messere, avvocato della famiglia Iacovone, ha parlato di una sentenza assolutamente inaspettata di fronte a responsabilità e comportamenti penali conclamati, ma il celebre legale non molla e si dice convinto di ribaltare in appello l'esito del primo grado. Noi siamo dell'avviso che c'è una prova monumentale sulle responsabilità dell'imputato. Gli errori giudiziari sono all'ordine del giorno, per questo motivo ci sono le impugnazioni e come disse Ottaviano ai cesaricidi, ci rivedremo a Filippi. Stessa amarezza anche dei familiari del Polizzotto morto in servizio. Per loro è come se Giuseppe fosse morto di nuovo. Oggi abbiamo perso per la seconda volta nostro fratello, perché nostro fratello a questo punto è morto in vano. Mio fratello quel giorno voleva evitare che questa persona causasse la morte di altre persone che stava mettendo a repentaglio l'ingolumità degli utenti della strada. Per la seconda volta la giustizia italiana ha ammazzato mio fratello da oggi.